Comprar tu casa propria è assolutamente possibile. Stanco di buttare via i soldi in affitto in una città costosa come Milano? Noi abbiamo la soluzione per te. Ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno di comprare casa pagando una rata inferiore a quanto paghi di affitto, anche se pensi di non avere le condizioni per farlo. Sto molto contento perché esattamente in questo momento sto andando al banco perché i miei clienti acabano di comprare la sua prima casa. Quindi noi ci aiutiamo a fare il mutuo, un appartamento molto bello in Milano. E la cosa super interessante è che loro pensavano, stavano praticamente sicuri, che era impossibile ottenere il mutuo, però noi ci aiutiamo come facciamo con moltissime persone. Quindi dentro di poco vi farò vedere i nostri clienti e amici che hanno appena realizzato il suo sogno. Se ti è piaciuto questo video probabilmente ti piaciuto fare reali il tuo sogno di comprare casa propria. Chissà già sapere che vivere in alquiler solo ti fa desperdiciare dinero in una casa che non sarà tua. Se realmente vuoi comprare una casa, noi possiamo aiutarti. Possiamo trovare la migliora soluzione per te e tua famiglia, in base a tus possibilità e conseguire una ipoteca al 100%. Tutto questo grazie a tutti i migliori brokers del mercato con cui lavoriamo da anni fa. Atenzione, potremmo pensare che non hai i requisiti. O, già ti hanno detto che non, però credo, abbiamo aiutato a molte persone che apparentemente non avevano le condizioni per ottenere la ipoteca e comprare la casa. Questo significa che probabilmente anche possiamo aiutarti a realizzare il sogno di tua vita. Estas interessato? Haz clic en il enlace per reservare una chiamata completamente gratis e così poter analizzare la situazione. Nosotros possiamo aiutarti a realizzare il sogno. Stiamo per entregar le chiave ai nuovi proprietari di casa, in spagnolo. Come si sienti? 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 Agarrare la prima casa è una cosa, un sogno per tutti. In mili proprietari sono qui spagna, in banco che oggi Carlo e Wilber hanno comprati il suo primo gioco. E là ci stanno contento, davvero felice e felice. Come si sienti? Come si sienti? Si lo esperavano al inicio di poter farlo. pensavamo che era impossibile, ma in realtà non è impossibile quando si propone qualcosa, si può essere possibile e le dico a tutti, che tutto quello che si proponga si può essere possibile non lo so io, so culto aca stanno la vostra chiave grazie 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 Capital Gutiérrez Inmobiliare Capital Gutiérrez Inmobiliare per tutto, per tutto, per tutto ciao grazie e questa è la casa che si convertirà in il hogar di Wilber e Carla Gutiérrez Inmobiliare facciamo diventare realtà il tuo sogno grazie 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 Grazie.